Zoom Cesaro AAAAAAA Re birte c'ha sto fascio di velocità cose così Veramente pazzesco Ma infatti vi dovete far furbi Allora io dico a tutti i player di mosso e tastiera Voi vi dovete far furbi, non vi dovete incazzare col pad Voi dite Cazzo il D-Zinc Fatevi furbi cazzo la merda a tiktok ma giusta me ne valloc mamma mia, mamma mia che spragliatore oh dai come ah ah tiktok tiktok mi ha shottato con due colpi tiktok, lui mangia frutta che bello però comunque Rebirth c'ha sto fascino di veloci ma che sta succedendo Rebirth c'ha sto fascino di velocità cose così veramente pazzesco posso dirlo piotti troppo su Rebirth raga non c'è perché vorrebbe il te c'è c'è zero AAAAAA 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 mamma mia mamma mia mamma mia ma di cosa parliamo? che sto a fare foto auguri big bro come auguri? oh ma i suoni i passi non c'è fortissima fortissima non ha senso AAAAAA BOOM BOOM pure con lo slider ne faccio pure con lo slider ne faccio che spettacolo è che spettacolo è per te sia troppo bene uno sopra qua uno sotto uno sotto chiuso uno sopra sopra non lo faccio un po' rischioso magari questo avvi controllato dai no raga se imparo bene sto cecchino è finita eh nemico marcato necessario 3-2-1 potrei bombardare quasi richiedo supporto aereo bersaglio marcato un nuovo io trovo stile localizzato no 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 siiii troppo facile rebert è troppo facile mi manca un braccio ma che è oh oh oddio AAAAA aia Rex no chi è questo no no raga questo qua sti snapper che si muove troppo veloce ho paura ho paura devo essere sotto un soldato mi muoco in arrivo 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 aaa 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 AAAAAA fortissimo assarma pure secondo piano anzi entro da qua e poi entro sotto no se mi sfruttava se mi avesse slidato di dragger di san cesareo ancora il de dragger colpisce fortissimo il murride non riesce questo ragazzo let's go mamma mia bro mi sto spappolando bro soldato nemico in arrivo non hai colpi pazzò non c'ho capito si è inplaccato vai giù no bello mamma mia bro ma non si vedeva raga clippate me la vi prego non si vedeva vi giuro era un tutt'uno ciao 44 si sentono mamma mia mamma mia mamma è forte che bello gioca con gli r gli r sono fortissimi non ci credo non ci credo questo sta dentro fermo dall'altra parte sempre batman qua io c'ho questo qui questa serve questa serve questa serve la persona non si può tornare indietro ragazzi quindi off uno proprio qua quello qua l'ho fatto quello qua me lo segnava non lo vedo più ma questo è girato di qua si è girato sotto vedo 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 pompa l'altro va via adesso io dovrei vedere se riesco a prendere il picchio verso destra qua mi spara da sopra non lo conosci questo spot e non lo conosci ma io lo conosco e adesso anche voi il salto della muerte ciao 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 ciao